parlati in porta contro salvemini dai 11 metri salvemini per il pareggio del giuliano contro parlati che si muove sulla linea di porta fischio arbitrale parte salvemini la parata di parlati pazzesco pazzesco incredibile non ci posso credere mai visto nulla di simile parlati para il rigore a salvemini assurdo assurdo può scrivere alla propria carriera oltre che gol e assist anche un rigore parato pazzesco